ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bronc comunale a biogen farma spa ultimo aggiornamento 16 agosto 2021 cosa bronc comunale confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bronc comunale durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa bronc comunale bronc comunale a un farmaco a base del principio attivo bacto lisato appartenente alla categoria degli vaccini batterici e nello specifico altri vaccini batterici e commercializzato in italia dall'azienda biogen pharma spa bronc comunale può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni bronc comunale 3,5 mg bambini 30 capsule rigide bronc comunale 7 mg adulti 30 capsule rigide informazioni commerciali sulla prescrizione titolare abiogen pharma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo bacto lisato gruppo terapeutico vaccini batterici forma farmaceutica capsula indicazioni adulti profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie respiratori tract infections rt bambini adolescenti età compresa tra 1 e 17 anni profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori upper respiratory tract infections urti nei bambini da 1 anno di età posologia posologia adulti adolescenti di età superiore ai 12 anni il ciclo di trattamento profilattico per le infezioni ricorrenti delle vie respiratorie a una capsula di bronc comunale adulti al giorno da prendere a digiuno per 10 giorni consecutivi al mese per la durata di tre mesi consecutivi il ciclo di trattamento profilattico può essere ripetuto se necessario bambini fino ai 12 anni di età stessa modalità di somministrazione degli adulti poi cacopi rai bronc comunale bambini contiene la metà della dose di bronc comunale adulti modo di somministrazione uso orale il contenuto della bustina va versato in una bevanda acqua succo di frutta latte eccetera prima della somministrazione in pazienti che hanno difficoltà a deglutire la capsula questa può essere aperta e il suo contenuto versato in una bevanda acqua succo di frutta latte eccetera prima della somministrazione allo stesso modo della bustina la miscela si dissolve agitandola delicatamente si deve avvisare i pazienti di assumere tutta la miscela entro qualche minuto e di agitarla sempre appena prima di berla controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 bambini di età inferiore a 1 anno malattie autoimmuni infezioni intestinali acute avvertenze speciali e precauzioni di impiego tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati il trattamento deve essere sospeso in vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione con altri farmaci n a copyright con vaccini la risposta immunitaria può essere inibita nei soggetti con immunodeficienza congenita o acquisita in terapia immunosoppressiva o con vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere broncomunal durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere broncomunal durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza i dati relativi all'uso di broncomunal in donne in gravidanza sono in numero limitato gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari broncomunal non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari effetti indesiderati le reazioni avverse per broncomunal sono elencate in base alla classificazione medra per sistemi e organi all'interno della classificazione per sistemi e organi le reazioni avverse sono riportate in vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non sono noti casi di sovradosaggio proprietà farmacodinamiche categorie farmaco terapeutica vaccino batterico agente immunostimolante codice atc il lunga 07 ax meccanismo d'azione broncomunale ha mostrato proprietà immunomodulanti in vitro e in vivo nel corso di studi preclinici e clinici di proprietà farmacocinetiche in base alla natura del prodotto non può essere condotto uno studio farmacocinetico convenzionale essenzialmente a causa della presenza di pià componenti e dell'assenza di un metodo analitico idoneo non dati preclinici di sicurezza tossicità a dose singola la singola somministrazione endovenosa dio m 85 fino a 2,000 mg bar a chilogrammi nel topo ea 1,400 mg bar a chilogrammi nei ratti non ha provocato segni di tossicità tossicità a elenco degli eccipienti capsula rigide amido di mais pregelatinizzato magnetolo propile gallato anidro e 310 sodio glutammato anidro magnesio sterato composizione dell'opercolo della capsula gelatina titanio di ossido e 171 in bigotina e 132 granulato in bustina magnetolo farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di broncomunale a base di bactolisato sono bronco vaxon o munal fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato